Prossimi passi, prossime gare? Ma adesso avrò una gara il 27 aprile perché sto facendo un percorso assieme ad una ragazza non vedente nel paratriatron e proveremo a qualificarci per le Olimpiadi di Tokyo, quindi adesso sto facendo questi allenamenti con questa ragazza per provare un po' di sintonia e anche e soprattutto per pedalare insieme sul tandem e quindi le mie prossime gare saranno gare a squadre diciamo Vabbè, un bel progetto quindi Sì, è un progetto molto stimolante che mi ha fatto ritrovare entusiasmo e soprattutto a livello umano vedere la forza di volontà di questa ragazza mi fa vedere la vita in modo diverso